Una notte di follia ad Arezzo, una notte di paura per un clochard che si è visto sfondare a sassate i vetri della rullotta in cui vive. Vittima dell'episodio, Tiziano Birra, falegname svizzero, originario del canton ticino che le vicestitudini della vita hanno poi portato in città. Da quasi dieci anni abita nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile, assieme all'inseparabile Bubu. Nella notte, tra Natale e Santo Stefano, i due però sono stati svegliati di soprassalto dal rumore dei vetri mandati in frantumi con grossi sassi e pezzi di asfalto, due le finestre che sono state sfondate. L'episodio è stato denunciato alla polizia di Stato e intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Ed intanto è subito scattata una gara di solidarietà per aiutare Tiziano. Qui da via Vittorio Vento parte una raccolta fondi, proprio dove Tiziano, assieme al suo amico a quattro zampe Bubu, trascorre gran parte delle sue giornate. Perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente. Non capisco infatti il motivo di questo gesto, perché è una persona che veramente sta nel suo e non dà fastidio a nessuno. C'è un gesto bruttissimo. Già in passato erano scattate gare di solidarietà, adesso l'obiettivo di questa nuova raccolta fondi è quello di riparare le finestre andate in frantumi. Aspettiamo di vederlo per poter chiedere informazioni per poi fare questa raccolta.